Ci piace affrontare le sfide e vincerle. Il nostro obiettivo è quello di far arrivare una rete in fibra ottica a casa dei clienti, a dichiararlo il presidente di Convergenza SPA Rosario Pingaro, un progetto ambizioso che vede la squadra di Convergenza SPA lavorare duro per rispondere sempre al meglio ai bisogni del territorio e per essere al passo coi tempi. Guarda, gli obiettivi sono sempre nuovi, nel senso che le sfide sono sempre dietro l'angolo e a noi ci piace con un pizzico di coraggio affrontarle e cercare poi di vincerle. Sicuramente l'obiettivo primario è quello di continuare a costruire e espandere una rete in fibra ottica che arrivi fino a casa del cliente finale, perché questo è l'unico strumento scalabile a prova di futuro che nei prossimi anni, nei prossimi forse secoli, potrà dare una capacità di banda quasi infinita. E noi oggi lo stiamo facendo su Capaccio, lo stiamo facendo su Trentinara, lo faremo presto anche su altri comuni e per finanziare questi investimenti che sono comunque estremamente importanti dal punto di vista quantitativo abbiamo progettato la quotazione in borsa che dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2020. Quindi un progetto di apertura, questo che contraddistingue ogni aspetto della nostra vita aziendale, sicuramente importante che spero possa costituire anche un esempio poi da seguire per altre aziende.